Parte da Torino una grandissima operazione per far conere Torino ma farla conoscere in una maniera molto particolare all'interno dell'università. Don Peyron. Sì, l'iniziativa si chiama Fatti di Vita, è un concorso fotografico che durerà tutto maggio rivolto agli studenti universitari che vivono e studiano a Torino. L'idea è fare insieme all'università e al Politecnico un videoclip che racconti la città ma raccontata dal basso, cioè raccontata dai ragazzi. Questo videoclip poi durante l'estate sarà presentato a tutte le nuove matricole, quindi soprattutto i ragazzi che vengono magari dal sud Italia, dall'estero, sia dalle università, sia dalla diocesi e dalle diocesi del sud. L'idea è quella di dire ai ragazzi che verranno a studiare qui che c'è una città che li attende, che ci sono dei giovani che già li attendono e questo si inserisce nel cammino del sinodo che il vescovo ha voluto appunto per la pastorale giovanile.